Ciao amici, oggi non è solo il primo giorno d'estate, è la giornata mondiale dello yoga. Namaste a tutti. Pensate che ho iniziato a praticare yoga quasi 40 anni fa. Ero una ragazzina e poi nel tempo ho studiato yoga in India, sono diventata insegnante, ho insegnato yoga e ho una grande passione per questa disciplina. Tante volte consiglio alle persone di fare yoga e mi chiedono, ma che tipo di yoga faccio? Ce ne sono di diversi tipi, tantissimi. Beh, io in questo sono molto tradizionalista, avendo studiato in India, per cui per me lo yoga consiste nella pratica fisica, quindi esercizi asana, accompagnati dalla respirazione corretta e poi esercizi di respirazione pranayama, seguiti dal rilassamento e da un po' di meditazione. Questa per me è una sana e buona sessione di yoga perché mette in linea il corpo, la mente, lo spirito, le emozioni, quindi è molto completa. Secondo me, quei tipi di yoga dove ci sono contorsionismi estremi, esercizi strani, appesi a testa in giù, per aria, calore con caldo, sovrannaturale e tante altre stranezze, non sono yoga. Sicuramente sono esercizi che fanno tanto bene al corpo, però non hanno quella completezza dello yoga classico e quindi non possono essere così efficaci per la crescita armonica della persona, che è anche importante. Poi dall'altra parte c'è l'altro estremo, quelli che usano lo yoga per illuminarsi e per diventare delle persone realizzate. Sicuramente aiuta, ma non è oggi, come era magari migliaia e migliaia di anni fa, la via principale per l'illuminazione. Secondo me i veri maestri yoga, quelli classici tipo Patanjali, che ha scritto lo yoga sutra eccetera, si rivoltano spesso nella tomba perché oggi si parla di yoga in maniera veramente assurda. Quindi il mio contributo per questa giornata mondiale dello yoga è fare chiarezza, scegliere la giusta disciplina, praticarla con assiduità perché tutto ciò che è naturale fa bene deve essere praticato con costanza e mi è venuta in mente una cosa, adesso vi faccio una domanda. Se io riprendessi alla mia tenera età a insegnare yoga e lo facessi online video, a qualcuno interesserebbe? Chi mi seguirebbe? Scrivetemelo nei commenti perché come sempre sono curiosa. Per godere dello yoga in modo trendy e sano, come vogliamo tutti noi di questa community, il peggiore errore da evitare è questo, mai spingersi oltre i propri limiti fisici. Ognuno ha una sua perfezione e la sua perfezione è il momento in cui inizia a percepire quella tensione fisica e non deve mai oltrepassare quella soglia. Mi raccomando, questo è davvero importante e permette di migliorare giorno dopo giorno senza causare danni perché può esserci anche questo. E invece il mio consiglio a tutti i praticanti di yoga e a coloro che vogliono avvicinarsi a questa meravigliosa disciplina e quindi usare questa pratica anche per fare crescere la conoscenza di se stessi, che è la cosa più importante. Perché come dico sempre, quando conosciamo meglio noi stessi, capiamo meglio le nostre esigenze, ma non solo, anche quelle dell'ambiente che ci circonda, lo yoga serve anche a coltivare quel sano egoismo di cui tutti abbiamo bisogno oggi, se no pensiamo sempre agli altri, al lavoro e mettiamo noi stessi in ultima posizione. Quindi mettete un'ora di yoga in agenda, fatela a casa, fatela in palestra, fatela con me, ma fatela, vedrete la differenza. Buona giornata mondiale dello yoga a tutti, naturalmente. Ciao! Cosa dici? Sì, no. Ma no! Ciao!